Questo ragazzo è più coraggioso di te, poiché sta cercando di catturare un pesce gatto spaventosamente enorme solo con le sue mani, e aspetta solo di vedere quanto è gigante questa cosa. Ma anche dopo essere stato morso non si è arreso, ha quindi deciso di entrare in questa grotta solo per raggiungere il pesce, il che è assolutamente folle. E dopo essere rimasto sott'acqua per circa 10 secondi, finalmente ha ferrato questo mostro e ha iniziato a tirarlo fuori. Ma questo pesce si è rivelato molto più grande di quanto si aspettassero, poiché era quasi grande come lui. Lo proveresti mai?